Il tuo consulente Agrometrio ti dà il benvenuto su Agronotizie. Che tempo farà in questo fine settimana? Purtroppo il caldo ritornerà ancora in primo piano, perché tra venerdì e domenica si consolida sull'Italia, purtroppo, di nuovo l'anticiclone nordafricano. Ecco allora il caldo e eventuali fenomeni previsti per venerdì, sabato e domenica. Bene, venerdì ancora temperature massime fino a 33 gradi su Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, però non sono previsti temporali, purtroppo. Sabato temperature massime quasi ovunque, intorno a 33 gradi su Lombardia, Emilia, interno del centro, Puglia ed isole maggiori, temporali sulle Alpi e sull'est della Lombardia. Domenica il caldo più intenso, perché l'anticiclone nordafricano si rafforza ancora più e quindi prevediamo temperature ovunque superiori a 33 gradi, con punte di 34 gradi su Lombardia, Piemonte, Emilia, Basso Veneto e zone interne del centro e 34-36 su Puglia, Lucania ed isole maggiore. Per quanto riguarda quindi il tempo, terminiamo qui. Dal pulsante sottostante puoi visualizzare le previsioni di Cassiatua. Grazie.